Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico di Racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. In loro compagnia visito i luoghi narrati. Invito ora quindi a seguirmi nella visita dell'arcipelago delle isole Egadi. Viaggeremo lungo la storia e visiteremo assieme le varie isole. Le isole Egadi, Isuli Egadi in siciliano, sono un arcipelago che si trova a cavallo tra Basso Tirreno e Canale di Sicilia. Fanno parte amministrativamente del comune di Favignana, ad eccezione dell'isola di Mozia San Pantaleo e dell'isola Grande, che fanno parte del comune di Marsala. posto a circa 7 chilometri dalla costa occidentale della Sicilia, fra Marsala e Trapani, nel libero consorzio comunale di Trapani, che costa di tre isole e due isolotti, più una serie di scoglie e faraglioni. Le isole già in antichità erano note col nome latino di Egates, che proviene dal greco Aigatai, ossia isole delle capre. Tracce di antichissimi insediamenti umani si hanno principalmente nell'isola di Levanzo, dove sono state ritrovate anche grotte con pitture murali rappresentanti pesci e, in misura minore, in quella di Favignana. Si suppone che ciò sia avvenuto a causa dell'ultima glaciazione, che creò un passaggio naturale tra Africa e Sicilia. Nel 241 a.C. i romani conquistarono le isole dopo la battaglia navale finale della prima guerra punica, nella quale Gaio Lutazio Catulo, generale romano, baragliò la flotta cartaginese. Poi, dopo il crollo dell'impero romano, le isole caddero in mano ai vandali e ai goti ed in seguito ai saraceni. Nel 1081 vennero occupate e fortificate dai normanni e in seguito seguirono poi il destino della Sicilia fino al 1500, quando divennero proprietà dei pallavicini rusconi di Genova e poi nel 1874 dei Florio, che potenziarono le tonnare di Favignana. Il gruppo delle Egadi, come ho detto in antico Egates o Aegates, geologicamente era collegato con la Sicilia e comprende tre isole principali Favignana, Levanzo e Marettimo a ovest di Trapani e Marsala. Favignana, la più meridionale, è a 13 km da Marsala e circa 17 da Trapani. Levanzo è invece a circa 4 km a nord di Favignana e circa 15 da Trapani. Marettimo a circa 15 km a ovest dalle altre due e dista 33 km da Marsala e 38 da Trapani. Gli abitanti, complessivamente, sono circa 5.000 riuniti in un solo comune e sono dediti soprattutto alla pesca e alle attività turistiche nella stagione estiva. fino a un passato recente, grazie ai Florio, alla famiglia dei Florio, la pesca del tonno fu molto importante, soprattutto presso la tonnara di Favignana, la più importante di tutta la Sicilia. Fra Trapani e Levanzo, inoltre, si trova l'isolotto di Formica, lungo 680 metri, con un piccolo faro, il gruppo di fabbricati della tonnara abbandonata. Un po' più a est c'è un altro isolotto, chiamato Maraone, stretto e bassissimo, lungo circa 600 metri. Cominciamo la nostra visita delle isole, proprio da Favignano, da Favignana, l'Egusa, o Aegusa, degli Antichi, lunga da nord-ovest a sud-est, 9 km, e larga 4,3, con 19 km quadrati di superficie, è l'isola maggiore del gruppo, si presenta nuda, scarsamente coltivata a cereali e vigne, e più largamente sfruttata dalla pastorizia. Sulla sua maggior larghezza, in senso nord-sud, si alza una costola montuosa, che tocca i 314 metri, e vista di fianco, dà all'isola l'aspetto di un grande cono. Ai due lati della costola si stendono due pianure, Bosco a ovest e la piana a est. Vi si aprono numerose grotte, alcune delle quali di interesse preistorico. In un profondo seno della costa nord, si trova il paese di Favignana. Venne rifondato dai pallavicini nel 1637, sulla preesistenza di un borgo medievale, difeso in età normanna da un sistema fortificato, di cui rimane sul monte, a ovest, il forte di Santa Caterina, e a sud, il forte di San Giacomo, ampliato e ristrutturato in forma stellare, alla fine del 1400. Al centro dell'abitato, si trova la piazza Matrice, sulla quale prospetta la chiesa omonima, ossia la Matrice, dedicata all'Immacolata Concezione, e fu edificata nel 1704 per ordine del re Filippo II. Sul porto, nel luogo dove sorgeva il forte San Leonardo, oggi demolito, Damiani Almeida, edificò nel 1876 il villino Florio, oggi sede municipale. Di fronte, lungo il lato occidentale del porto, sono i grandi caseggiati della Tonnara. Sul monte Santa Caterina, si aprono diverse grotte di interesse preistorico, in gran parte svuotate, che hanno restituito scarso materiale del paleolitico superiore. Sono la grotta della pecora, dell'ucceria, del monte Faraglione. Le industrie neolitiche hanno restituito le grotte Giunta, Minguddi, Canalotso. Naturalmente molto interessante è il giro dell'isola in barca. Dal porticciolo, si volge verso nord-ovest, alla punta Faraglione, estremo nord dell'isola, che pare staccata come un'isoletta. La costa, fino alla punta, è dirupata, perché vi sovrasta Erta, la dorsale montuosa che attraversa l'isola, e della quale si vedono, da sud a nord, le tre punte principali, il monte Santa Caterina, 214 metri, la punta della campana, di 296 metri, e la punta grossa, di 252 metri. al cui piede, è la punta Faraglione. Non lontano da questa, sono due grotte, con stalattiti e stalagmiti. Doppiata la punta, si costeggia la piana coltivata, detto il bosco. Si passa la punta del ferro, poi, la bianca, e bassa punta sottile. l'estremo ovest dell'isola, con un faro. Lungo la costa sud, si rasentano gli scogli, nerastri e bassi, con gli isolotti, galera e galeotta. Più in alto, è l'isolotto Preveto, prolungamento della montagna, sovrastante. Si costeggia la pianura est, la punta più meridionale, si chiama Fanfalo. Da questa, alla punta Calarossa, si vedono, ammucchiati, sulle rive, blocchi di pietra, di Favignana, costituito di, tufo bianco, conchigliare, da costruzione. Girando poi verso nord, si ritorna, al paese di Favignana. L'isola di Levanzo, l'antica Forbantia, e forse la Bucinna di Plinio, è lunga, da nord a sud, 5 km, e larga 2 km, a coste dirupatissime, sovrastate, da un alto piano, a vigne, cereali e pascoli. Culmina, nel pizzo del Monaco, di 278 metri, è priva di sorgenti. Notevole il faraglione, isolotto conico, unito alla terra, da un piccolo istmo. La costa sud-est, in fondo a una piccola cala, è il paese di Levanzo. L'isola è particolarmente ricca di grotte, di interesse preistorico, che hanno restituito principalmente industrie del paleolitico superiore. Grotta crollata, grande, di punta capperi, dei porci, del genovese, di punta sorci, di cala tramontana, 1, 2 e 3. Consigliabile, è la visita, alla grotta del genovese, molto bella, e interessante. A nord-ovest, del paese si trova, e si raggiunge, per mulattiera, o in barca, e apre, sopra la cala omonima, e conserva due cicli d'arte parietale, uno naturalistico, con rappresentazioni incise di animali, equidi, bovidi e cervidi, e tre, di figure umane, che raggiungono valori d'arte, per il felice rendimento, dello scorcio e del movimento, uno semischematico, con rappresentazioni dipinte in figure umane, animali, e idoli, che hanno connessione, con l'arte naturalistica, paleolitica, franco-calabri, cantabrica, con quella schematica, del levante spagnolo. L'isola di Marettimo, era la, hiera, o hieromensus, degli antichi, è la più montuosa, delle tre isole, ed è ricca di sorgenti, è lunga, da nord-ovest, punta Mugnone, a sud-est, punta Bassana, sette chilometri e mezzo, larga circa, due e mezzo, con una superficie, di dodici chilometri quadrati, la sua cima più alta, è il monte Falcone, che tocca, e 686 metri. L'abitato di Marettimo, si trova sulla costa est, il forte, sulla punta Troia, o Troia, fu prigione politica borbonica. Appena sopra l'abitato, sono resti di strutture, di epoca romana, in opus reticolatum, e una chiesetta, probabilmente di epoca normanna, in cattive condizioni. Anche in questo caso, naturalmente, è interessante il giro dell'isola in barca. Risalendo verso nord, lungo la costa, si passa presso lo scoglio del cammello, e la grotta omonima, poi si supera la cala Magnone. Girata la punta Troia, o Troia, si costeggia il lato nord dell'isola, fino alla punta Mugnone, a sud della quale, è la cala Bianca, chiusa a est, da un'altissima muraglia rocciosa. Girando verso sud, si visita la bellissima grotta del presepe, entrando in barca, che ha rocce e concrezioni. Più a sud, troviamo la grotta della Bombarda, ancora più vasta, e con acque più profonde. Segue la cala dello spalmatore, con una spiaggia, dove è possibile sbarcare. di gira Punta Libeccio, dopo la quale, è un faro, alle falde del Monte Scaturro. Si doppia poi, la punta Bassana, la più orientale dell'isola, per ritornare verso nord, a Marettimo. Pantelleria, è la più grande isola, intorno alla Sicilia. dista circa 100 km dal capo Granitola, e solo 70 km dal capo Mustafà, in Tunisia. È di forma ovale, è lunga dal nord-ovest a sud-est, 13 km, quasi 14 km, larga circa 8, con una superficie di 83 km quadrati. È molto accidentata, culmina nella montagna grande, alta 836 metri, avanzo di un cono vulcanico, intorno alla quale, sorgono 24 alture, dette Qdie, antichi crateri, che formano un sistema somigliante, in piccolo, a quello dell'Etna. La sua popolazione, è ripartita, nei centri di Pantelleria, Sibà, Tamma, Tracino, Rizzo, Recali, Scauri, e in altri piccoli nuclei sparsi. Naturalmente i nomi, tradiscono, la grande vicinanza, con i paesi arabi, con la Tunisia, in particolare. La montagna grande, domina con la sua, lunga cresta tutta l'isola, e scende verso ovest, con una falda, a piano inclinato, in cui emerge, la Qd Amida, 291 metri, cratere ben distinto, a est, forma, una cresta tagliata, dall'erosione, quasi a picco, verso l'esterno, unico avanzo, dell'antico, orlo craterico. Tra le alture minori, sono, il monte, Gibelè, grande, 700 metri, a sud-est della montagna grande, di forma conica regolare, e col cratere ben visibile. La Qd Attalora, 260 metri, a sud dell'isola, è una grande cupola, senza cratere, con base larghissima. Il monte Fossa del Russo, di 481 metri, a sud della montagna grande, è un cono ellittico, poco spiccato, la Qd Arandazzo, di 416 metri, e a nord. Nella parte, nord-ovest dell'isola, spiccano, l'aspro, monte, Gelcamar, di 289 metri, e più a nord, il monte Sant'Elmo, di 265 metri. La piccola, Qd Aferle, 207 metri, e altri minori. Sono caratteristiche, certe depressioni, trasformate in bellissimi, anfiteatri, di versura, da un'accurata coltivazione, di cui alcune, almeno, sono avanzi, gli antichi crateri. Probabilmente, un cratere lago, è, a nord, il bagno dell'acqua. Poi, vi è la fertile depressione, della contrada Monastero, sud-ovest, profonda, oltre 50 metri. Quella del piano, d'Irlanda a sud-est, anche più profonda. L'altra, fra la contrada, Rucchia, e la lava, del Fiser, o Gelfiser, a sud, del bagno dell'acqua, profonda, oltre 100 metri. La lunga e profonda gola, fra la montagna grande, e il monte, Gibele grande, ed altre. Geologicamente, Pantelleria, è analoga, all'Ipari, con la quale, ha comuni, alcuni tipi di rocce vulcaniche. Vi si trovano, poi, minerali particolari, come, la, Cossirite, proprio, delle, Pantelleriti, di quest'isola, e la, Faialite, di Cudiamida. Tra le rocce vulcaniche, dominano, le Pantelleriti, le Comenditi, le Trachiti, tutte, spiccatamente vetrose, e, infine, i basalti normali. Esse formano, la montagna grande, e la regione centrale, a sud-est, e si riscontrano, anche, a nord-ovest, in diversi luoghi. Invece, i versanti occidentali e settentrionali della montagna grande, la Cudiamida, la regione fra Monte Gibele e Serra Ghirlanda, forniscono la pomice Pantelleritica, fondante pure, in molti luoghi, la presenza di blocchi di ossidiana, vetro vulcanico, sempre Pantelleritica. L'isola è priva di sorgenti d'acqua potabile. La popolazione si serve dell'acqua di alcuni pozzi, scarsamente mineralizzata, come il pozzo pubblico in piazza Cavour, a Pantelleria, la cui acqua, a mezzo di un acquedotto, viene distribuita a tutte le case. Altri pozzi, detti buvire, hanno invece acque fortemente salmastre. Il prodotto principale di Pantelleria è l'uva, molto pregiata come uva da tavola, oppassita, molto ricercato, il Moscatellone, e da cui si ricavano ottimi vini, fra cui il rinomatissimo Moscato di Pantelleria, per il quale vi sono nell'isola vari stabilimenti. Si esportano anche fichi secchi, capperi, una varietà molto ricercata di lenti, le lenticchie di Pantelleria e altri prodotti agricoli e pescherecci. Ottimi e notoriamente pregiati sono i grandi e sicuri asini per cavalcatura, che si esportano anche in Sicilia. l'ultima eruzione preceduta dai terremoti si ebbe nel 1890 a cavallo col 1891 e sollevò fino oltre un metro la costa nord dell'isola. Si ebbe nell'ottobre 1891 dal fianco sottomarino dell'isola in mare a 5 km dalla punta nord-occidentale verso la metà del mese si avvertirono terremoti per lo più sussultori che crebbero l'intensità fino al 17 quando ebbe inizio l'eruzione in mare durata fino al 25 essa consistette in emissione di gas e di moltissimi grossi blocchi sub-sferici di lava poriacea nera ancora pastosa che balzavano fuori dall'acqua talvolta fino a 15 metri d'altezza parecchi scoppiavano con violenza ed essendo incandescenti di notte da pantelleria si vedeva una lunga distesa di bagliori rossastri i blocchi galleggianti erano circa 500 in una striscia lunga da 200 a 500 metri arrivati alla superficie si riconfiavano e talvolta non riuscendo a esplodere correvano a fior d'acqua soffiando violentemente da qualche screpolatura vapore acqueo misto ad anidrite solfurosa e altri gas poi imbevendosi d'acqua affondavano lentamente nel mare poco profondo tra patelleria e i banchi di sciacca presso la costa sud della Sicilia avvennero altre eruzioni sottomarine nel 1701 nel 1831 e nel 1863 che formarono isolette presto demolite dalle onde in pantelleria sono numerose tuttora le manifestazioni vulcaniche e le minori le principali sono le favare grandi getti di vapore acqueo caldo fin quasi a 100 gradi centigradi che esce a intermittenza con fragore di molino da crepacci delle rocce vulcaniche ve ne sono parecchie nei fianchi e alla sommità della montagna grande nella parte nord del cratere della Cudia Mida nelle pareti e nel fondo degli antichi crateri fra la contrada monastero il gibelè piccolo la montagna grande e il gibelè grande le rocce alternate dai gas acidi misti al vapore acqueo e specialmente all'anidride sulfurosa hanno preso uno spiccato color mattone che fa riconoscere le favare da lontano il vapore acqueo condensandosi a contatto dell'aria produce acqua che raccolta in pozze serve per abbeverare gli animali i paesani per favorire questa condensazione mettono attraverso la bocca delle favare degli sterpi che gli acidi emanati imbiancano i bagni asciutti o stufe sono grotte naturali con emanazione di vapori la principale è il bagno asciutto in contrada salibi due chilometri a sud ovest del paese con una grotta formata di due camere in cui penetra un forte soffio di vapore acqueo a una temperatura di 32 33 gradi centigradi è usato benché di rado per cure di aromatismi poi sorgenti termali sgorgano in vari punti della costa a temperature diverse da quelle ambientali a circa 70 gradi centigradi e con una mineralizzazione da 3 a 8 per mille le principali sono quelle di sataria o sataria di scauri e di nicà sulla costa sud ovest di gabir su quella nord est e più interessanti di tutte quelle di bagno dell'acqua nella quale numerose sorgenti dette caldarelle sgorgano nel suo lato sud est a una temperatura tra i 30 e gli oltre 50 gradi centigradi sono cariche di silice idratata e di carbonato di sodio nell'acqua del laghetto gorgogliano getti di anidride carbonica poi ci sono le buvire che sono pozze di acqua salmastra ve ne è una decina specialmente nella striscia di terra detta cartibugal fra la spiaggia delle balate e del bagno dell'acqua pervono per abbaverare il bestiame col sollevamento della costa nel 1890 l'acqua vi scomparve ma poi tornò nel secondo sollevamento del 1891 scomparve di nuovo e poi ritornò molto più lentamente il fondo e le pareti delle pozze sono ricoperti da bianche incrostazioni di silice venne anche alla spiaggia di gadir nella contrada gadir a nord-est a scauri a sud-ovest e altrove si trovano depositi di zolfo e incrostazioni di silice idratata ci sono pure mofette ossia esalazioni di anidride carbonica Pantelleria l'antica Cossira dei Greci serba vestigia di una popolazione preistorica fu colonizzata dai Fenici probabilmente insieme a Malta ed ebbe importanza per i cartaginesi quale scalo fra l'Africa e la Sicilia fu tolta loro dai romani nel 255 poi definitivamente nel 217 avanti Cristo si vuole che vistesse in esilio Giulia figlia di Augusto la prima popolazione cristiana fu distrutta dagli arabi verso il 700 l'isola fu poi conquistata nel 1123 da Ruggero Normanno il Normanno e seguì da allora in poi le sorti della Sicilia fu quindi devastata dai corsari nel 1551 e dai turchi nel 1553 durante l'ultima guerra l'isola ebbe importante funzione come punto di controllo del canale di Sicilia e fu conseguentemente fortificata naturalmente per questa sua importanza dopo l'occupazione della Tunisia da parte degli alleati avvenuta il 13 maggio 1943 fu sottoposta a massicci bombardamenti aerei ben 140 e navali durante 33 giorni finché l'11 giugno vi sbarcarono le forze anglo-americane costringendo alla resa il presidio il dialetto di Pantelleria è essenzialmente siciliano conserva per fenomeno di isolamento molte parole latine come domus ecclesia e altre arabe gli abitanti si chiamano Panteschi il centro più importante dell'isola si chiama esattamente come l'isola stessa ossia Pantelleria e si stende lungo il porto attorno al grande antico castello Barbacane una massiccia struttura di nera pietra lavica l'abitato distrutto per il 90% nei bombardamenti dell'ultima guerra è stato ricostruito secondo un piano impernato sulla piazza Cavour aperta sul mare vi prospettano il nuovo palazzo comunale e il fianco nord della chiesa madre ricostruita anch'essa nel 1956 sul luogo della precedente a sud del paese sui colli di San Marco e Santa Teresa si trovano avanzi di fortificazioni antiche e altri manufatti tra cui belle cisterne campanate è probabile che vi sorgesse l'acropoli della punica Cossira tutta l'isola specie la parte nord-est è sparsa e cosparsa di casette di un solo piano cubiche o parallelepipede bianche di calce con uno o pochi ambienti simili alle cube arabe e che sono dette da musi molte sono raggruppate in piccoli nuclei con una chiesa a sud-ovest del paese 4 km circa lungo la costa si trovano i principali avanzi archeologici di Pantelleria reliquie di una popolazione neolitica forse venuta dall'Africa e probabilmente affine ai siculi e ai sardi si trovano nella regione fra le Cudie rosse e la marina di Suvachi in un paesaggio aspro per le correnti di riolite e le masse di nere lucenti ossidiane proprio le ossidiane che lo frastagliano rendono purtroppo disagevole il percorso questa zona detta delle cimele ebbe a Murcia sul pendio sud delle Cudie rosse il suo villaggio fortificato mediante un imponente aggere di pietra che cinge una parte della terrazza mentre l'altra sporgeva verso il mare su nere scogliere le fortificazioni neolitiche di Murcia trovano riscontro soltanto in Spagna un po' a sud si stende poi la vasta necropoli dell'abitato costellata di sesi massicci tumuli a forma di cupola di grandi massi lavici con cellette sepolclari interne varianti in numero da 3 a 12 le cupole per lo più ellittiche misurano di diametro medio da 4 a 18 metri e ricordano un po' i nuraghe sardi ci si arriva uscendo dal paese dal quale distano 3 chilometri circa si costegge il porto e si procede sempre in vista della costa lungo una strada a tratti tagliata nella roccia la meglio conservata di queste strutture è il sese grande vicino alla strada un alto tumulo a terrazze in cui si aprono stretti cunicoli di accesso alle camere sepolcrali un'altra escursione interessante è quella che ha per meta il bagno dell'acqua e che si trova a circa 6 chilometri dall'abitato si segue dal paese la costa settentrionale dell'isola fino ad un bivio a 5 chilometri di distanza dove si lascia a sinistra la strada per Gadir e si scende a destra al piccolo specchio d'acqua il laghetto all'interno di un cratere ha un diametro di circa mezzo chilometro col pelo dell'acqua a 2 metri mentre l'orlo che lo racchiude ha una quota minima di 53 metri e alimentato da caldarelle che ne rendono l'acqua calda nei pressi ci sono avanzi di un santuario cartaginese che